1 e 7 di Gianni Rodari Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranghere. Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di automobili. Però abitava anche a Berlino e lassù si chiamava Kurt e suo padre era un professore di violoncello. Però abitava anche a Mosca, si chiamava Yuri come Gagarin e suo padre faceva il muratore e studiava matematica. Però abitava anche a New York, si chiamava Jimmy e suo padre aveva un distributore di benzina. Quanti ne ho detti? Cinque. Ne mancano due. Uno si chiamava Chu, viveva a Shanghai e suo padre era un pescatore. L'ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos Aires e suo padre faceva l'imbianchino. Pablo, Jean, Kurt, Yuri, Jimmy, Chu e Pablo erano sette ma erano sempre lo stesso bambino che aveva otto anni, sapeva già leggere e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul manubrio. Pablo era Bruno, Jean, Biondo e Kurt Castano ma erano lo stesso bambino. Yuri aveva la pelle bianca, Chu la pelle gialla ma erano lo stesso bambino. Pablo andava al cinema in spagnolo e Jimmy in inglese ma erano lo stesso bambino. E ridevano nella stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e sette e non potranno più farsi la guerra perché tutti e sette sono un solo uomo.